Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video su IndinamiTanto. Oggi siamo nella bestia dello spazio profondo per vedere come si ottiene il Punk of Patch. Avremo bisogno innanzitutto di tre lamiere per comporre il ponte. La prima lamiere si trova dopo la stanza allagata a destra delle blue bolts. Quando raccoglierete queste lamiere qua solitamente compaiono i criti di giro, sono sempre due volte in totale. Quindi vi consiglio di non farlo quando siete all'inizio, cioè prima di fare la corrente intendo non fatelo perché altrimenti poi vi confondete con i criti reali del round. La seconda lamiera la troviamo nel Cargo Bay, nella terza stanza a destra dallo spawn. È questa qua. La lamiera sta qua sotto. A questo punto interagiamo con questo pallino qua, dove ci sarà questo laser che distruggerà le porte per andare nelle trasporti. Noi giustamente ci dobbiamo entrare per forza di cosa e ci troveremo nel cinema. Giunti qua, apriamo questa porta. E poi questa porta nel bagno per spendere meno soldi. L'ultima lamiera la troviamo sulla macchina, quella là in fondo. Ora che abbiamo raccolto tutte e tre le lamiere per comporre il ponte, o passiamo da quel teletrasporto liquido che c'è qua in questa strada, questo qua solo che poi c'è da aprire un'altra porta da 1250, oppure fate il giro inverso che vi ho appena mostrato. Giunti qui, andiamo dentro questa stanza e paghiamo 2000 punti. Ora dobbiamo costruire il ponte con le lamiere che abbiamo ottenuto. Una volta costruito qua dentro ci sarà il pancaplaccio. Bene ragazzi concludo qui il video, spero che vi sia piaciuto. Vi invito a lasciare un like e iscrivervi al nostro canale se non l'avete ancora fatto. attivate la campanella delle notifiche perché molto presto manderò altri video di questo DLC qua. E ci vediamo alla prossima con un altro video. Bella ragazzi! Ciao! 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 Ciao!